La Regione Campania ha ottenuto per il sesto anno consecutivo il pareggio di bilancio e ha raggiunto quota 167 nella griglia LEA ai livelli essenziali di assistenza dato relativo al 2018 con un'ulteriore crescita tendenzialmente anche per il 2019 e quanto è stato verificato nel corso del vertice di ieri a Roma al tavolo con il Ministero della Salute e quello dell'Economia e delle Finanze, riunito per la verifica trimestrale degli adempimenti relativi ai programmi di risanamento contabile e assistenziale di asole e ospedali della Campania. Ma sebbene la Regione abbia fatto registrare anche un netto miglioramento dei livelli di assistenza, il commissariamento resta. Per questo, al termine della riunione, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sollecitato una tempestiva riunione del Comitato LEA. Beh, è quanto si sta ripetendo da mesi ormai. In Regione Campania si è fatto un lavoro incredibile per riuscire a recuperare un gap di qualità, di efficienza delle strutture sanitarie che ormai andava avanti da troppi anni. Purtroppo però ancora dal Governo nazionale non abbiamo riscontri positivi in tal senso. Speriamo si rendano conto che con le istituzioni non si giochi. Speriamo che si rendano conto che la sanità in Campania ha un valore che supera le bandiere di partito e per cui consentire alla Regione Campania di ottenere il giusto riconoscimento che risulta ottenuto vuol dire sbloccare nuove risorse per la sanità nella nostra Regione, sbloccare nuove assunzioni, nuovo personale e dare finalmente un servizio all'altezza del nome, all'altezza del servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini campani. La Campania merita di più, la Regione sta facendo il massimo. Speriamo che dal Governo arrivino finalmente segnali distensivi che consentono di fuoriuscire dal commissariamento senza strumentalizzare questi temi che riguardano la vita e la salute delle persone. Frattanto però i cittadini campani sono costretti a dover subire il blocco dei tetti di spesa e quindi a non poter effettuare prestazioni diagnostiche ambulatoriali. Su alcune credo ci sia stato uno sblocco in realtà per alcune prestazioni essenziali. È chiaro che la fuoriuscita dal commissariamento consentirà sicuramente di poter usufruire, consentirà a tutti i cittadini di usufruire di un livello di assistenza superiore rispetto a quelle migliori rispetto a quello che nei decenni passati ha avuto la possibilità di ottenere qui. È il tema e la battaglia che stiamo facendo anche a livello nazionale per quanto riguarda il federalismo e l'autonomia. Questa proposta di autonomia differenziata che è all'oggetto dell'attenzione del Governo presentata soprattutto da due regioni del Nord, Lombardia e Veneto, è una proposta che noi stiamo contestando fortemente perché rischia di creare cittadini di serie A e cittadini di serie B per quanto riguarda soprattutto l'utilizzo e la possibilità di fruire di servizi essenziali quali la scuola, la sanità e servizi assistenziali e tante altre materie, per esempio la riqualificazione ambientale, infrastrutturale e contro il distesso idrogeologico. Noi non possiamo mettere a rischio l'unità del Paese, per questo ci batteremo contro questo progetto che è ora all'attenzione del Governo e che in realtà penalizza fortemente, per come presentato da Lombardia e Veneto, i cittadini del Mezzogiorno d'Italia.